Dalla tessitura della seta alla battitura dell'oro e dell'argento, dal ricamo alle stampe, dalla lavorazione della paglia a quella del cuoio. Sono 38 le eccellenze artigiane fiorentine scelte da Domenico Dolce e Stefano Gabbana per il primo evento di moda dal vivo al mondo. Dopo il lockdown, il rinascimento e la rinascita, dal 2 al 4 settembre in location simbolo della città. Questo martedì 2 settembre nel Salone del 500 di Palazzo Vecchio la sfilata Alta Sartoria con in passerella gli accessori e gli oggetti realizzati dalle botteghe artigiane e nel chiostro di Santa Maria Novella l'esposizione della collezione Alta Gioielleria. Il giardino di Villa Bardini invece sarà palcoscenico della sfilata Alta Moda il 3 settembre, mentre nelle cantine Antinori al Bargino si terrà lo speciale ed esclusivo ricevimento il 4 settembre.